incontro questa mattina per i ragazzi dell'istituto di nicola sasso di torre del greco con simonetta gola direttrice della comunicazione di emergency e moglie di gino strada fondatore dell'associazione umanitaria attiva dal 1994 e autore del libro diario un sogno possibile appositamente riadattato per permettere una più fluibile lettura anche i più giovani e avvicinarli maggiormente alla conoscenza di contesti difficili come le zone di guerra tante le domande rivolti dai ragazzi stimolati dalla lettura del libro di strada simonetta gola direttrice della comunicazione di emergency questa mattina alla scuola di nicola sasso per parlare del libro di gino strada diario di un sogno possibile è un libro che racconta il lavoro di gino su due cose il diritto alla salute per tutti e la guerra gino aveva la convinzione che la sanità dovesse essere gratuita completamente perché potesse essere accessibile a tutti e che la guerra non vada mai fatta perché la guerra una volta iniziata non sappiamo come va avanti ma nel frattempo sappiamo che il 90 per cento delle vittime sono civili persone esattamente come noi che con la guerra non c'entrano che un'arma non l'hanno mai impugnata ma che sono il vero obiettivo della guerra i ragazzi come hanno accolto questo libro mi sembra molto bene mi sembra che questo libro abbia aperto molte domande e credo che sia il senso di questo libro farsi interrogare su se possiamo cambiare le cose e le cose le possiamo cambiare gino l'ha vissuto l'ha dimostrato con la sua vita quali sono le domande più curiose che ha sentito dai ragazzi beh ci sono delle domande nate su cose personali di gino le sue reazioni di fronte a alcune cose le sue passioni e poi domande sul mondo quindi ci sono più livelli la curiosità individuale e invece anche interrogarsi su che cosa possono fare anche loro per cambiare questo mondo presente all'incontro anche il sindaco di torre del greco e consigliere comunale yolanda mennella l'amministrazione presente c'è stato anche il sindaco che ha fatto un po insieme alla preside gli onori di casa simonetta gula ha riadattato il libro di gino strada diario di un sogno possibile i ragazzi quest'estate hanno letto il libro e adesso è un momento di confronto di riflessione l'impulso alla lettura voluto dalla scuola ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con argomenti che hanno sensibilizzato la loro comprensione delle situazioni di emergenza in cui si trovano molte zone del mondo è stato curata da simonetta gola questa edizione per ragazzi che noi riteniamo fondamentale per la preparazione dei ragazzi per sensibilizzare ad argomenti attuali la guerra ma non solo anche il diritto alla cura oggi sempre più si parla di privatizzazione degli ospedali emergency è quella che cerca di tutelare e portare il diritto alla cura in ogni parte del mondo e quindi i ragazzi hanno bisogno di sapere quello che sta accadendo attorno a loro e questo libro da spunto a tante tematiche attuali libro ho letto durante il periodo estivo dei nostri alunni della scuola seconda di primo grado quindi un libro che hanno veramente letto con attenzione oggi quest'evento ha dato la possibilità a loro di fare delle domande importanti a simonetta gola che anche la responsabile della comunicazione dell'associazione emergency oltre ad essere la moglie di gino strada che sapete tutti il ruolo che ha avuto soprattutto nella sua missione nel guarire nel curare insomma i feriti di guerra nelle zone più pericolose che stanno dove c'è in questo periodo la guerra ma anche nel periodo in cui lui ha iniziato questa missione importante nell'aiutare gli altri coloro che avevano bisogno e i vostri ragazzi come hanno accolto la lettura di questo libro con veramente molta attenzione benissimo l'hanno accolta anche perché la sono stati veramente colpiti molto sensibilizzati dall'argomento e lo si è capito anche dalle domande che sono state poste stamattina a simonetta gola quindi veramente molto sensibili hanno anche capito che bisogna aiutare il prossimo anche nei piccoli gesti quotidiani anche durante le attività didattiche quindi non solo la del medico come lo era gino strada ma anche noi tutti i giorni abbiamo delle missioni aiutare gli altri quando ce n'è il bisogno di aiutare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti